Il disastro minerario di Mononga rappresenta una delle pagine più tristi della storia dell'emigrazione italiana. Tra le vittime tantissimi molisani, tra i paesi più colpiti c'è Frosolone. Per non dimenticare questa tragedia, l'istituto comprensivo Colozza ha organizzato un incontro per riflettere su quanto accaduto oltre un secolo fa e sulla strada che c'è ancora da fare per garantire a tutti sicurezza e dignità. La tragedia di Mononga è una tragedia che ha segnato profondamente il tessuto cittadino di Frosolone e dei paesi limitrofi per cui abbiamo messo in atto una serie di iniziative con gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado in modo tale che loro possano conoscere, essere messi in contatto con una realtà così dolorosa e tristemente poco conosciuta e poco nota. Proprio perché loro debbano essere consapevoli di tutto ciò che ha segnato la vita dei loro antenati nel passato. Limitarsi al ricordo sarebbe tuttavia riduttivo. Più opportuno invece far sì che tragedie come quella di Mononga possano stimolare tutti a fare di più per dare un futuro migliore ai lavoratori. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più rispetto alla sicurezza. Non abbiamo certamente più i problemi delle miniere ma abbiamo altri tipi di problemi, sicurezza sul liquido di lavoro, abbiamo l'insicurezza nel mondo del lavoro per cui l'impegno credo di tutti, non solamente dell'ente regione ma di ciascun cittadino, di ciascuna istituzione, anche dell'istituzione scolastica e creare quelle condizioni affinché si è più pronti al mondo del lavoro. Anche la scuola che ci accoglie felicemente oggi credo che possa e debba dare di più rispetto a dare quelle competenze necessarie affinché i ragazzi che vengono fuori dalle scuole possano essere immessi nel mondo del lavoro nel miglior modo possibile. Proprio per mantenere vivo il ricordo l'associazione Mononga si sta impegnando per dare il giusto rilievo alla tragedia avvenuta in terra americana. Ci impegniamo anche durante l'anno per riuscire a fare inserire all'interno dei libri di testo per le scuole il disastro minerario di Mononga in quanto ad oggi è totalmente assente e questo significa che quasi nessuno conosce quella che è la più grande tragedia dell'emigrazione italiana e uno dei più grandi disastri del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro che ancora oggi conserva purtroppo un numero di vittime elevato e quindi non viene mai meno l'impegno da parte delle istituzioni e da parte di tutti a far sì che le condizioni di sicurezza siano sempre migliori.